Ciao a tutti, io sono Valerio, io sono Luisa, noi siamo Uidi e oggi siamo in un nuovo video. Sono busanacidofono e torniamo tra 5 minuti e lì iniziamo il video. Chi sarà male? Luisa, un po' colorino. Buonasera, ha servato un pacco per voi. Ok, grazie mille, arrivederci. Ok, Valeria, lascia cosa sola qui, quindi... Luisa, è un pacco. Fidget Flip, non so che cosa scappa l'ho ordinato tu. Maybe... E perché l'ho ordinato a casa mia? Because è fantastico. E eccolo finalmente. Cioè, il bello è che io l'ho ordinato ieri ed è arrivato oggi, quindi fantastico. È praticamente un pacco che ha... Non vi spoilerò nulla, vi faccio solo vedere qui. Molte persone hanno chiamato questi cosi gli eredi del fidget spinner. Perché? Perché sono la versione evoluta. Penso che siano un mix tra la water bottle e il fidget spinner. E guardate, sono questi. E guardate che... Oddio, guarda, ne sono arrivati. Ma quanti ne sono? Casino. Questo è mio. Davide. Tutto il c'è della mia cartella grigia. Ma no! Luisa, ora ci penso. Io sono bravissimo ai fidget flip. So fare un casino di trick. Lo so, infatti, che li ho regalati perché... No, seriamente. Visto che domani è il mio compleanno non potevo avere 18 anni e non sapere come flippare questi cosi. Quindi ho detto, basta. Ora ne ordino un casino e vedo come funzionano. Visto che però io sono incapace e invece Valerio è bravissimo, lui mi insegnerà come fare. Grazie al video vi ricordiamo che alla fine di ogni video salutiamo 5 persone. Ovvero, le ultime 5 ci hanno lasciato la notifica su Instagram. Questi sono i nostri nomi di Instagram, quindi se ancora non ci seguite, vedete a seguirci, lasciateci tanti commenti, mi piace, in modo avrete tante sue possibilità e siete salutati. E inoltre, domani, questa ragazza qui fa 18 anni, quindi dovete correre a seguire su Instagram. Questo è il suo nome di Instagram. Farete questo regalo, non vi dico una cifra. Seguitela e basta, fate arrivare a più seguaci possibili. Iniziamo. Ok, questi sono, questi che abbiamo ordinato noi, sono quelli della Suki Benz, che potete trovare in qualsiasi edicola tranquillamente. Tutti i colori del mondo. Ok, Luisa, basta riempareggiare, ti devo insegnare a farvi. Luisa vuole perdere tempo e modo di non imparerà mai. No, ti devo insegnare come si flippano. Ok, però non voglio flippare col giallo, perché il mio momento crudo deve essere del blu. Basta, deciso. Ok, adesso ti faccio vedere più o meno come si fa. Ok, Luisa, adesso ti spiego come si usa. Per farlo muovere, bisogna mettere il palmo e la mano sopra e dare una leggera spinta, così. Ok, fin qui ci siamo, credo. Ok, ora penso che ci proverò, insomma. Ok, l'ho dato molto, molto leggero, l'ho dato un po' più forte. Dai, così è easy. Ok, adesso ti insegno un altro, diciamo, modo per farlo muovere, ovvero non con il palmo, ma con il dito. Così. Raga, qui stiamo superando il livello, tre insieme, vai, fanno i partire. Oh mio Dio, che sincro per tre secondi. Sì, fanno i partire cinque insieme. Vai, vai. Però poi continuo per l'insegnamento. Vai, teacher. Ok, devi avere una manona. Sì, ce l'hai. Vai. Sono andati tipo uno contro l'altro, però riprova, riprova. Raga, è stato il momento più bello della nostra vita, penso. Ok, col dito. Ma io sono troppo delicata per scrivere questo. Stava tirando dritto, no? Vabbè, ora basta. Facciamo le cose adulti, le cose serie. Ora li faccio partire tutti insieme. Cioè, questi sono tutti insieme letteralmente e devo farlo con due mani perché ho le mani troppo piccole per farlo. Vado. Vai. No! Sai, no, voglio riprovare. Vedi tu come fare. Con tre dita e tre dita. Oh, è funzionato di più rispetto alla mano. Cioè, tre dita è più tattico. Ok, allora, ultimo tentativo. Devo fare almeno, diciamo, un giro a testa. Ok. Vado? Vai. Gli hanno fatti tantissimi. È la via di Carlito. Ok, visto che ora la mia esperienza è decisamente separata quella di Valerio, calcolando che la mia intelligenza è un livello, diciamo, più evoluto. Sono stata l'ultima parte. Direi che ora proverò a bloccarmi. In movimento. In movimento. Ah, good job, teacher. Ok, vado. Vai. Aspetta. Non ci sei riuscita, dai. Ovviamente, era il riscaldamento, cioè, circa. Ovviamente. Oh, ma quanto sei broker. E va. Oh, 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 my God. What? 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 Il video di oggi è di Fisci e Quals, speriamo a voi, se vi è piaciuto, se è così non mi dimenticate, e lasciare un bel mi piace, anche per la sua originalità della intro. E, inoltre, salutiamo le cinque persone che ci hanno lasciato la notifica su Instagram, ovvero, salutiamo. Mario, grazie, trattino basso, Terrasi. Ciao, Mario, grazie. Ciao, Mario, grazie. Giulia, trattino basso, Flamenco. Ciao, Giulia. Ciao, Giulia. Carmine, trattino basso, Di Costanzo. Ciao, Carmine. Rosario, scotto, trattino basso, 2006. Ciao, Rosario. E, infine, salutiamo la fanpage. We are my only life. Ciao. Ciao. Se siete ancora iscritti al canale, che cosa aspettate? Questo è il pallino, cliccate... Oh, mio Dio, ti sei iscritto. Veramente sei un grano e ti sei iscritto. E non ti prevedi questo video. E, infine, se siete arrivati fino a questo punto del video, commentatelo con l'hashtag AdoreFidget. Ciao. Bye. Ciao.